La notizia si è diffusa nella giornata di domenica 4 luglio, lasciando tutti senza parole. A settembre si tornerà a scuola con la mascherina e rispettando il distanziamento, lo ha detto il Comitato Tecnico Scientifico rispondendo ad una serie di quesiti posti dal Ministero dell'Istruzione su come programmare l'inizio del prossimo anno scolastico. Per la verità del problema si era già discusso in una riunione del 25 giugno, durante la quale gli esperti avevano ribadito che le misure da applicare per l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 dovrebbero essere le stesse previste all'inizio del precedente anno scolastico. Il punto è che le conseguenze derivanti dalle nuove varianti del virus che si stanno diffondendo ma soprattutto resta l'incognita del numero di studenti che risulteranno vaccinati a settembre. Al momento attuale, inoltre, il personale scolastico vaccinato è di poco superiore al 70%, anzi in alcune regioni si attesta intorno al 50%, percentuali che gli esperti considerano ancora insufficienti. Per intanto si sta parlando anche di istituire il Green Pass in ambito scolastico, ma una ipotesi del genere sarebbe in contrasto con le norme sulla privacy. A spingere verso una intensificazione della campagna vaccinale c'è poi il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, che sostiene che bisogna superare l'atteggiamento di prudenza che c'è stato finora e pensare seriamente ad estendere la vaccinazione anche agli studenti prima dell'inizio della scuola. Ma così, commenta il presidente della NP Lazio, Mario Rusconi, si dovrà continuare con la didattica a distanza ancora per molto tempo, nonostante che in questi mesi tutti gli esperti abbiano ripetuto che questa modalità deve essere considerata solo come una soluzione di emergenza. Ora, se c'è una variante in arrivo che ha più facilità di diffusione delle precedenti, la soluzione dovrebbe consistere nel monitoraggio periodico e costante, fatto almeno a campione in tutte le scuole per intercettare l'eventuale arrivo dell'infezione. In caso di esito positivo si dovrebbe passare subito all'isolamento del caso e alla individuazione e alla quarantena dei contatti a rischio. Non si riesce poi a comprendere come mai, nonostante le ingenti risorse messe a disposizione dal recovery plan, non si sia riusciti ad avviare un piano serio in materia di trasporti scolastici e di riduzione del numero degli alunni per classe, almeno nelle situazioni più complesse. Per non parlare poi degli impianti di purificazione dell'aria che, pur non essendo risolutivi, potrebbero però servire a contenere la diffusione del virus. Il tema, come è facile capire, è di grande attualità, quindi noi continueremo a tenervi informati. Continuate quindi a seguirci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicaldellascuola.it. Continuate a scriverci, a mandarci le vostre lettere, i vostri commenti. Noi ne daremo conto come di consueto.